prendetelo sconatevi ma quali sono? stiamo allontanati un po' fai un passo indietro è una piccola che vuoi dal mio zaino? oh 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 guardate questo che vuoi? guardate quei due non mi tiro ma ne hai visto il piccoletto? ma quello che mi sono andato guarda quello quanto è ciccione c'è una ciccione? si attenti c'è un camioncino guardatevi un po' no lo mozzi guarda 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 ci mettono a capire che cos'è, sono messi in tre, questi sono i tre saggi, la commissione di saggi guarda le l'ho fatta proprio con la stampa in alto, arriva al capo dei saggi vedete, ha più capelli guarda la scemia che si fa così, guardate quello, non l'abbiamo visto, questa è da paperissima Matteo, lo mandiamo a paperissima? lo montiamo, questo è da paperissima, guarda lo stanno toccando sotto per capire, lo commentiamo, lo commentiamo come fanno quelli scemi in realtà loro non hanno paura di noi, sono perplessi dall'oggetto vediamo se riescono ad alzarlo, no 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 non lo locate